Ciao ragazzi, ben ritrovati. In attesa che decogli un po' il mercato della prima squadra, sia l'entrata che in uscita, volevo fare un po' con voi il punto sulla primavera del Toro. Una primavera che dal prossimo anno mi piacerebbe cominciare a seguire con un po' più di continuità. Partendo dal presupposto che dei risultati della primavera non me ne frega nulla, però mi piacerebbe, vedendo le partite, se sarà ancora possibile, penso di sì, perché Sport Italia per qualche anno dovrebbe ancora avere i diritti per la trasmissione del campionato primavera 1, seguire un po' l'evoluzione dei ragazzi per capire e anche provare ad anticipare, no? Anche mettermi un po' alla prova per vedere quali di questi potrebbero poi tornare utili per la prima squadra, posto che il settore giovanile dovrebbe essere il serbatoio principale per squadre come il Toro, ma sappiamo che troppo spesso non è stato sfruttato anche in tempi recenti. Abbiamo l'esempio, tralasciando Gineitis, che non è un prodotto del settore giovanile ma ha fatto qualche presenza in primavera, abbiamo visto piano piano affacciarsi in prima squadra i vari della valle, Sava, prima di loro Nghessan, poi Ciamaglichella, eccetera, eccetera. Quindi qualcosina c'è, qualcosina c'è, bisogna trovare solo chi con il lavoro quotidiano riesce a trasformare questi ragazzi in giocatori, diciamo, professionisti in modo tale che possano tornare utili per la prima squadra, perché l'obiettivo deve essere quello, avere un settore giovanile che dà sostentamento alla prima squadra, in barba i titoli che, a parte che sono conseguenziali, ma non sempre vogliono dire che chi vince il campionato primavera allora è un blocco di giocatori che va bene per il professionismo, anzi, molto spesso non è così. E l'abbiamo visto proprio con la primavera di Longo, che vinse il campionato qualche anno fa, e guardate dove sono andati a finire i protagonisti di quell'anno. Prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campana e gli aggiornamenti, se lasciate un like al video mi fate un enorme piacere, e se volete acquistare maglie calcio a basso prezzo, primo link in descrizione qua sotto, maglie calcio Italy su Instagram, utilizzate il mio codice sconto del 10%, falso 9, contattate i ragazzi, fate il vostro ordine, e poi mi fate sapere che cosa avete comprato, mi mandate le vostre foto, così io ho dei feedback sempre freschi freschi sulle mie collaborazioni. Volevo fare una piccola analisi anche sui giocatori, ma prima, per chi non lo sapesse, faccio un disclaimer. Da quest'anno, stagione 24-25, ci sarà un nuovo regolamento, proprio appunto fresco fresco di qualche settimana fa, per quanto riguarda la prossima stagione primavera. Regolamento che ci dice che potranno giocare i classe 2005, quindi del classe 2005 in poi, senza limiti di inserimento in rosa, ma ci andranno almeno 8 calciatori che la FGC definisce local. Sono andato a cercarmi che cosa significhi, praticamente sono calciatori che dal 12esimo anno di età sono stati testerati per almeno due stagioni consecutive a un club o più club affiliate alla FGC. In più, devono esserci altri 8 calciatori in rosa che hanno i requisiti validi per la convocazione nazionale. Questo cosa significa? Che sono state inserite delle regole contro l'acquisto di calciatori stranieri, anche se non è esplicitato, diciamo, dal regolamento, è una cosa conseguenziale, perché poi, se io devo prendere 8 local, che quindi hanno fatto un sacco di anni nei vivai italiani, quindi sono sostanzialmente al 90% italiani, più quelli convocabili, ok, ma li devo andare a scegliere, tu mi stai togliendo l'opportunità di andare a pescare in paesi fuori dall'Italia, il che penalizza chiaramente le medio-piccole, perché con meno risorse peschi meglio all'estero. Un esempio è Lecce che due anni fa ha vinto il campionato primavera, che ha portato comunque in prima squadra tanti ragazzi interessanti. Poi ci può essere un fuori quota al massimo, iscritto indistinta, senza limiti di età, ma questo fuori quota non può giocare negli ultimi 5 turni di campionato e nei play-off. Questo più o meno è quello che è stato modificato quest'anno. Quindi, se dai 2005 in poi non ci sono limiti, significa che dai 2004 in su bisogna cominciare a fare delle riflessioni. Sono andato un po' a scartabellarmi la rosa del torino primavera di quest'anno, anche tra prestiti, rientri, eccetera, eccetera, ed è uscito questo. Il portiere titolare, Abati, esce. È un classe 2004 come Passador, quindi andrà a trovare una soluzione. Ovviamente, è chiaro, chi esce può rimanere come fuori quota, però lì sono scelte che andranno fatte dall'allenatore, che tra l'altro è un altro tema che tocchiamo a fine video. Quindi Abati, classe 2004, portiere esce, però il torino in rosa, Giabrezzo, che è un 2005 e che quindi teoricamente dovrebbe essere il titolare. Altri giocatori che escono tra il 2024, Della Valle, che tassativamente deve stare in prima squadra. Antolini, anche lui andrebbe valutato magari un presto, Antolini per chi non lo sapesse un laterale sinistro. Muntu Wamungu, che è un 2004 e dovrebbe tornare al Paris Saint-Germain. Non so se il Toro abbia la possibilità di riscattarlo in qualche modo, se c'è qualche accordo in tal senso, non lo so. Non lo so, so che il giocatore è abbastanza interessante, ma appunto è un 2004, quindi non sarà più impiegabile in primavera. Così come Ruschel, altro giocatore che andrebbe portato almeno in ritiro quest'estate. Jonathan Silva, dell'Aquila, altro 2004 sul quale andranno prese delle decisioni, e l'attaccante Christian Padula. Poi, se vogliamo completare l'elenco di fuori quota, teoricamente ci sarebbero altri 2004 che però ormai sono da prima squadra, che sono Ilkan e Dembélé per ovvi motivi, poi c'è Inghessan addirittura che è un 2003. Quindi tutti questi qua sono fuori dalla possibile composizione della rosa del prossimo anno, ed è una percentuale alta, perché il Toro aveva sostanzialmente il gruppo portante composto da soli 2004, come appunto vi ho fatto vedere citandovi i nomi. Poi abbiamo detto, chi resta invece al netto poi dei movimenti di mercato che solitamente in estate, per quanto riguarda la primavera, sono tantissimi. Luderniani smuove un sacco di pedine. Veneto Brezzo, il portiere 2005, Hazan Rashid 2005 è arrivato dall'Holborg l'anno scorso, Rodrigo Mendes, portoghese ex se non sbaglio Belenenses, 2005, ecco lui sì, lui è molto interessante, secondo me sarà uno dei giocatori più rappresentativi della prossima primavera. Balcou, francese, terzino destro 2005, 4 assist nella stagione 2023-2024, altro ragazzo che andrà a potenziare la primavera, con la conferma chiaramente. Poi c'è un bel blocco di under 17, quindi sotto età, tra cui Sergio Perciun, che recentemente, lo avete visto sui social del Toro, perché ha rinnovato il contratto, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Poi c'è Ngie, altro 2005, esterno offensivo, Gabellini che è una punta, poi parlando di 2005 è Saba e Ciamaglichella, ma questi non possono stare in primavera, vanno portati in prima squadra. Quindi tu, alla primavera del prossimo anno, togli tra i giocatori elegibili Saba, Ciamaglichella, almeno loro due, in più escono un sacco di titolari, per cui è chiaro che vanno, andranno fatti veramente degli interventi mirati, sperando che la cosa funzioni e che lui Danieli vada a scegliere bene. E poi vedremo appunto anche i movimenti che verranno fatti in uscita. Ma il problema è che in questi giorni è sorto anche il tema allenatore, perché Scurto probabilmente se ne andrà, ha avuto una buona offerta, ha ricevuto una buona offerta da Lecce primavera, a quanto pare il Toro lo libererà. Quindi bisognerà capire chi verrà preso per allenare la primavera del prossimo anno, che è un tema anche importante soprattutto perché Scurto era una scelta filo diretto da Ludagnani, che l'aveva portato dalla SPAL, adesso bisogna vedere, Ludagnani rimane spiazzato perché Scurto aveva appena rinnovato il contratto e bisognerà vedere che soluzione andrà a trovare. Però io mi auguro che a parte tutto, tra questi giocatori che ho citato, ci sia alcuni, non tutti, ovviamente è impossibile, ma alcuni che possano davvero nell'immediato dare una mano a Vanoli in prima squadra, perché tanto è inutile obberare la prima squadra di giocatori presi da altre parti che poi non rendono, anche pagati tanto, con stipendi fuori mercato, quando non si è mai voluto veramente guardare in casa se ci sono, se ci fossero delle soluzioni utili, ok? Cosa che non è scontata, però noi non ci abbiamo nemmeno mai provato. Prova ne sia che Sav e De La Valle sono stati buttati dentro a caso a fine stagione a Verona in una partita che tutti sostanzialmente davamo per persa e hanno fatto molto bene, Sav ha anche trovato il gol, Ciamagliichella non è mai stato preso in considerazione, tutto perché siamo malati, malati di questa convinzione che chi ha 17, 18, 19 anni non sia pronto per la prima squadra, ma è una convinzione tutta italiana, i ragazzi bravi ci sono e sono già bravi anche a 17 anni. Usciamo da questo schema mentale soprattutto per convenienza nostra, proprio per la dimensione che ha un club come il Toro, ok? Che dovrebbe, non dico avere una squadra di tutti i ventenni, ma in grossa parte sì, in grossa parte sì, perché sono esattamente il target di giocatori che ti permettono di andare avanti. Quindi vedremo come andrà, nel frattempo ditemi la vostra con un commento qua sotto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like al video, seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo molto presto e sempre per Forza Toro.